Diamo la parola ad uno tra i più giovani della nostra lista, un giovane in cui crediamo molto, molto più sicuramente, di vecchi consiglieri che ancora ci amministrano nel 2008, perennemente nel tempo. Largo ai giovani, gente, signori, Elio Ravisardo. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi ho l'onore di rappresentare la parte fresca, la parte giovane del mio partito. Mi chiamo Elio Ravisarda, forse molti di voi non mi conoscono, ma sono nativo di Stampevola Densa, vivo qui da ben 22 anni. Studio, ingegneria informatica, ho pure la fortuna di lavorare, nonostante la mia giovanità, in questo settore. Non ho mai partecipato attivamente in politica, anche perché non ne ho mai avuto la possibilità di farlo. Fino a quando, grazie a Paolo, sono riuscito a mettermi in gioco. Infatti, ho deciso di aderire a questo partito, perché questo partito, Paolo e tutti i miei amici, questo gruppo, hanno le mie stesse idee, hanno i miei stessi principi. Si è sempre pensato qui, a San Pietro Lorenza, che avere un partito formato da giovani ragazzi fosse un'utopia, fosse un qualcosa di impossibile. Però adesso, finalmente, grazie a Paolo Pappalardo, ci siamo riusciti. C'è un partito democratico con i giovani, largo ai giovani, largo a noi. Ci sono state, forse, anche abbastanza persone, molte persone che ci hanno criticato, che pensavano che noi non riusciamo a fare un discorso di questo tipo, riuscire a creare un partito. Ma noi ci siamo fatti forza e, girando di casa in casa, ci siamo accorti che voi cittadini ci appoggiavate. Quando parlo di voi cittadini, parlo di tutti i cittadini. E tendo a sottolineare questa cosa, perché c'è chi pensa che soltanto i ragazzi come noi ci sottoscrivevano. Ma non è così. Infatti ci stanno molta gente matura che ci supporta e ci aiuta. E lo dimostra il fatto, per esempio, che all'interno del nostro partito non ci stanno soltanto giovani, ma ci sta gente matura, capace, che ha una carriera, che ha un lavoro e che ha molta esperienza. Adesso vorrei parlare delle idee che abbiamo per migliorare il nostro paese, delle idee che abbiamo per migliorare la nostra società, le nostre strutture, i nostri servizi, che magari esistono, ma che non sono sufficienti alle esigenze di una cittadina. Infatti, per esempio, se vogliamo parlare per noi giovani, parliamo della biblioteca comunale. Biblioteca comunale che magari noi giovani vorremmo avere accesso a questa biblioteca comunale, ma gli orari non corrispondono alle nostre esigenze. Noi giovani vogliamo degli orari più elastici affinché noi possiamo entrare nelle nostre biblioteche. Vogliamo provare a fare una cosa molto importante anche all'interno delle nostre biblioteche. Vogliamo inserire un internet point, un internet point gratuito. Così magari un mio amico che non ha la possibilità di collegarsi a internet può farlo gratuitamente da una biblioteca comunale. Inoltre vogliamo incentivare pure gli eventi culturali. Eventi culturali che fino adesso sono stati pochissimi. Per esempio, sfruttando il nostro caseggiato mannino. Il caseggiato mannino che ha i locali idonei per questi eventi. Eventi culturali che possono far venire qui da noi, dal bambino al nonno. Che possono far venire qui da noi, dalla famiglia ai ragazzi, ai noi giovani ragazzi. Poi parlando di noi giovani ragazzi, l'esempio di Lorenza è stato sempre privo di centri ricreativi per noi ragazzi. Per esempio, l'esempio di Lorenza non ha mai avuto un'attività di cinema. Cosa che per esempio i paesi circostanti a noi hanno. E io sono sicuro che un'attività di cinema sarebbe una cosa utilissima in questo paese. Perché magari i giovani ragazzi, i giovani ragazzi minorenni, che magari non si possono muovere, avrebbero modo di divertirsi anche nel nostro paese. E al contempo stesso i genitori sarebbero più tranquilli. Perché ovviamente sanno che i figli sono qua in zona. E magari non prendono il motorino e decidono di andare a vedersi un film a Catania. Poi magari di sera piove e la mamma sta preoccupata e il padre sta preoccupato. Preoccupazione ovviamente giusta. È arrivato il momento quindi di dare un cambiamento. È arrivato il momento giusto per dare una svolta al nostro paese. Finalmente c'è una terza lista. E quindi parlo con voi tutti, con voi uomini, con voi donne, con noi giovani e con gli anziani. Affinché voi ci possiate sostenere. Perché magari sì, siamo un gruppo di giovani ragazzi. E per la prima volta ci stiamo inserendo nella politica. Ma proprio perché è la prima volta che ci stiamo inserendo nella politica. Siamo motivati e vogliosi di mettere in atto le ideologie del nostro programma. Perché un programma ci sta. Siamo passati di casa in casa perché abbiamo raccontato. Avete avuto modo di vederlo pure attraverso il nostro coupon. Il nostro programma di lavoro. Signori, vi ringrazio a tutti quanti per avermi ascoltato. Forza Partito Democratico. Signori, diamoci un taglio alla vecchia politica. Bravo, Elio, bravo. Avete sentito, eh? I ragazzi. Io credo che bisogna dargli una bella opportunità. I ragazzi sono il nostro futuro. I nostri ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.